buongiorno e benvenuti a questo video oggi voglio esporre un altro pensiero questo perché perché fondamentalmente il mattino mi sento ispirato a diciamo esporre il mio pensiero uno dei momenti più belli del mio lavoro è quello di arrivare al poligono e possibilmente una o due ore prima di iniziare l'attività allestire il campo sistemare le cose pulire e è bellissimo perché c'è silenzio e molto spesso mi vedo anche un pezzo d'alba quindi è un momento per me molto particolare che mi ispira molto ieri video purtroppo sulla vicenda del ragazzo ucciso in ucraina e ho notato che condividendo lo stesso video su diverse piattaforme quali youtube e facebook abbiamo una risposta tendenzialmente differente in riferimento proprio al social network dove viene effettuato la condivisione del contenuto di base ho notato che negli ultimi tempi sto riattivando un pochino facebook che avevo tralasciato a favore di lavorare magari sulla piattaforma instagram e youtube io ho visto che per appunto facebook chiama un volume di critica parlo di critica negativa molto più alto rispetto a instagram o youtube sappiamo molto bene perché però quello che mi piace fare è cercare comunque di vedere queste critiche di analizzarle ovviamente la maggior parte sono critiche fine a se stesse mentre invece devo essere onnesto ogni tanto capita che qualche critica è giustamente motivata e che giustamente merita una risposta una delle critiche che più mi viene mossa è quella a tu sei andato a combattere una guerra non tua sei un mercenario e perché non sei in galera perché fai questo lavoro perché comunque io ho cercato di rispondere più volte con diversi post piuttosto che pubblicare contenuti dove per l'appunto spiegavo qual è stato il procedimento però sapete cos'è è molto più facile gettare un pensiero così lanciarlo su un social piuttosto che fare delle ricerche e ricostruire la storia di una persona e cercare di capire però comunque rispondo a chi diciamo mi ha fatto questo appunto di base io sono stato in iraq a titolo volontario quindi non sono un mercenario quindi per la convenzione di ginevra non rientro in quei punti che definiscono per l'appunto attività di mercenariato ciò nonostante questo al mio ritorno ho trovato una bella sorpresa che era un'indagine da parte della procura della repubblica per determinare quella che era la mia attività in iraq quindi cercare di capire se avevo commesso attività illecita se avevo infronto la legge e se comunque ero perseguibile nei termini di legge con l'attività di mercenariato oppure l'attività di reclutamento ai fini di mercenariato ora stiamo parlando della procura della repubblica il cui questo procedimento prevede degli ufficiali di polizia giudiziaria in particolare la digos piuttosto che i reparti investigativi dei magistrati non è che il il tizio comune si sveglia e decreta quello deve essere no c'è un procedimento a norma di legge dove ci sono delle persone qualificate che fanno questo mestiere che decretano a questo punto se procedere penalmente verso la persona oppure archiviare l'indagine ora cerchiamo di capire che cos'è l'indagine l'indagine lo spiego come probabilmente lo spiegherei a me stesso perché ripeto sono io il primo ignorante l'indagine è quel procedimento di raccolta informazioni e ricerca della verità e se dopo quattro mesi il caso diciamo la pratica è stata chiusa vuol dire che a seguito di questa indagine quindi gli inquirenti avranno fatto tutte le loro valutazioni tutte le loro intercettazioni tutti i loro procedimenti atti a capire la verità e alla fine che cosa è successo successo che un magistrato non il tizio del bar che beve il caffè ma un magistrato a seguito dell'interrogatorio piuttosto che tutte cose che trovate online di dominio pubblico alla fine dopo tutto questo procedimento che è durato quattro mesi da che sapevo io a prima alla fine ha decretato che non è stato commesso un illecito quindi la risposta è la seguente Alex spineschi è un mercenario no perché se fossi stato condannato per il reato di mercenariato io non sarei qua non sarei qui sarei probabilmente dietro delle sbarre in questo modo qua o probabilmente sarei agli arresti domiciliari io non lo so però quello che vi voglio dire che prima di dire a tu sei è no aspetta vediamo i fatti i fatti sono i seguenti che ho descritto poi altra cosa hai combattuto una guerra cioè tutte queste sono chiacchiere da bar l'unica verità che conta è la carta è un decreto è quello che viene scritto su che cosa su un documento d'archiviazione quindi rispondo a tutti quelli che dicono ah tu sei un mercenario se fossi stato un mercenario e credetemi che la procura i magistrati e le forze dell'ordine hanno i sistemi per conoscere la reale verità a differenza magari di Gino il panettiere che il mattino legge legge il giornale dice ma questo è mercenario detto questo spero che chi ha criticato chi continua ad accusare chi continua a diffamare perché ragazzi io vi ricordo che andare sul profilo pubblico di una persona e accusare questa persona di un reato penale è diffamazione per mezzo stampa quindi vi dico anche che da oggi basta cioè come uno è una persona un individuo va su un profilo e accusa un individuo una persona che comunque lavora comunque a un'esposizione ripeto quattro gatti però è un esposizione al pubblico cioè parliamo di diffamazione mezzo stampa attenzione che il prossimo che esce fuori la parola mercenario ha se un criminale verrà preso e perseguito a norma di legge questo perché perché io non sono un criminale sono un libero cittadino che ha dimostrato di fronte alla legge neanche in un'aula di tribunale ma di fronte un magistrato di fronte agli inquirenti che non era quello per cui è stato indagato io spero che sono passati ragazzi dal 2017 18 19 20 21 22 dopo cinque anni che io cerco di riprendere la mia vita di fare una vita normale di lavorare di fare quello che comunque mi piace fare che è l'istruzione al tiro c'è ancora gente che continua e porta avanti questa storia invece che palladini della verità perché la verità è scritta sui fogli di carta a me sembra più che sia un'attività costantemente diffamatoria probabilmente basata su che cosa basata sul concetto che forse o c'è della gelosia perché comunque volenti o nolenti la realtà che ho creato ho creato comunque dalle 6 del mattino alle 8 di sera e a volte anche oltre probabilmente sta funzionando sta andando bene sta piacendo al pubblico oppure non c'è nient'altro motivo cioè che senso avrebbe dire screditare un qualcuno se non per motivi strettamente personali però di questa cosa ne parliamo magari nel prossimo video io vi ringrazio vi auguro una buona giornata e ripeto ancora una volta prima di scrivere un qualcosa su un social network uno documentatevi due cercate di capire che quello che scrivete probabilmente avrà delle ripercussioni poi se uno è un hater un odiatore seriale vuole creare danno beh a questo punto ripeto c'è la legge e si agirà a norma di legge io seguo la legge e come dico sempre che petria ciao